Stavolta dipende solo da Pallacanestro Lucera, un'altra vittoria sarà Serie B senza dover guardare al risultato delle inseguitrici. Anche perché l'occasione per chiudere i conti arriva contro Adria Bari, sola squadra rimasta a poter tenere il passo della capolista. Le due squadre più in forma del campionato di Cigold si incroceranno domenica prossima al Palacarrassi, arrivano allo scontro diretto sull'onda lunga dell'ennesimo successo. Svetta quota 36 punti, Lucera che mette in riga anche Virtus Molfetta per 85 a 79, oltre 60 punti complessivi per il trio Scarponi a Costa Uandie, ma il miglior realizzatore nelle fila Molfettesi, Brown con 29. Festa rimandata per la concobitante affermazione di Adria Bari a Monteroni per 70-52. I ragazzi di Cazzorla sfoderano un eccellente secondo periodo, serrando la difesa e mettendo in mostra un Callara da 21 punti, con tre giornate ancora da giocare e la vetta da inseguire. La seconda piazza, quota 30, è intanto ipotecata. A 28 resta però in agguato Mola New Basket che piega Altamura per 87-74 e porta 6 uomini in doppia cifra. Segnali di ripresa in ogni caso da parte dei Murgiani. Quarto posto in solitaria per Dinamo Brindisi che si conferma tra le squadre più in salute. Nessun problema a Trani con un'avversaria sconfitta per 111-30 con tutti e 11 i giocatori a referto andati a canestro su tutti il solito stoncus con 20. Corato passa intanto a Vieste per 79-64 e ora mette nel mirino la sesta posizione. 24 punti per Paolauskas in una sfida rimasta in perfetto equilibrio sino alla fine del terzo periodo. Prenota l'ultimo posto sul treno dei play-off, New Virtus Mesagne che supera Castellaneta per 70-56 e stacca in classifica Vieste. Nel prossimo turno, oltre all'incrocio Bari-Lucera, fa ripuntati su Brindisi dove arriva Monteroni. Mola va a Castellaneta, Molfetta invece riceve Altamura.